Ciuffo o ribelle? Oddio no, spero di non, lo so, non ci posso fare niente, non vorrei. Benvenuto Lorenzo. Grazie mille, è un piacere stare qua. Come stai? Benissimo, poi vabbè qua di stare nella costiera maffitana è pazzesca, sono contentissimo, non ne ero mai stato, mi hanno colleghi, amici, mi hanno sempre parlato così bene del giffone, sono molto contento di essere qua. A me stai fa particolarmente effetto vederti perché essendo un amante di Netflix, allora per me Marco Polo è stato, insomma, non lo so, è stato un momento incredibile nelle mie serate. Penso per me quanto è stato un momento incredibile. Esatto, quindi il mio momento incredibile è piccolissimo rispetto al tuo, me lo racconti? Come te lo racconto? È come avere un treno che ti arriva a 300 all'ora addosso, nel senso non hai il cuorello proprio. Arrivo! Sono molto attivi i nostri ragazzi al gifone. Rivedo, ma sono contentissimo per questo. Guarda, è un sogno, io sto vivendo un sogno, sto a cavallo, faccio Kung Fu, Arco, cioè nel senso di tutto e di più, quindi mi sto divertendo da morire. È un grande lavoro perché comunque gli americani sono tosti, però sono molto contento di essere uno dei pochi italiani che riesce a essere fuori all'estero e dire ci siamo anche noi, mantieni la bandiera alta. Senti, il Lorenzo dei liceali, quanto è cambiato? Quanto è cambiato? Ovviamente, insomma, io non parlo dell'anagrafa, ecco, però quanto è cambiato? Perché sei cresciuto, questo è chiaro. Vabbè, ma tutti cresciamo però, cresciamo tutti. I liceali è stata anche lì un'esperienza strana, perché ero piccoletto, ho 17 anni, ho 18 anni, quindi era come partire dalla scuola, dal liceo e andare a recitare da studente. E' cambiato perché ci credo un po' di più, quando hai risponsi nella vita, ti dà rispetto alle tue passioni, ti impegni ancora di più e ci credi ancora di più nel portare avanti il tuo sogno. Vabbè, però tu comunque ti sei impegnato perché hai studiato per diventare attore, non sei... Non c'è altro modo per riuscire ad avere dei risultati senza impegnarsi molto e studiare. Sembra un po' luogo comune, te lo dicono in tanti, ma, regà, lo studio serve. Meno male, cioè, poi se lo dici tu, secondo me, c'hai quel certo ascendente per cui ti credono. Il professore di matematica mi sa che forse non ti dà molta fiducia, però sempre, il fatto che comunque il centro sperimentale, la scuola che ho fatto, mi ha aiutato tantissimo. E mi sono ritrovato tutti gli insegnamenti poi sul set. No, sai perché, te lo chiedo, c'è molto la tendenza ultimamente a pensare che basta una telecamerina, riuscire ad interpretare due o tre cose, magari in un italiano perfetto o in un inglese che sia mediamente perfetto, per cui puoi essere attore. Io vorrei sfatare un po' questo mito, ma non per deluderli, capisci? Semplicemente per raccontare la realtà dei fatti. Sarebbero delusi se poi invece si aspettano qualche risponso senza aver fatto nulla e lavorato per raggiungere quell'obiettivo. Quindi non c'è altro da fare che... la base è impegnarsi e studiare molto. Poi se hai fortuna, perché comunque ci vuole anche tante fortune in questo mestiere e bisogna riconoscerlo, allora ci sono anche delle belle soddisfazioni. L'ultima cosa che ti chiedo, il tema di quest'anno del Giffoni è destination, la parola destination che cosa ti viene in mente? Destination... Poi hai detto a Marco Polo, insomma destination... Sì, infatti sarei proprio per il... Diciamo destination di Giffoni, ognuno dovrebbe cercare di capire qual è la propria destinazione, perché adesso la sparo alta e non mi ricordo nemmeno chi sto citando, però non c'è vento favorevole per chi navica senza direzione. Neanche io so chi l'ha detta, però detta da te fa un certo effetto. Lorenzo Richelmi a Giffoni, grazie. Ciao, grazie a te.